Da alcuni mesi la piscina di Parre è diventata comunale, l'amministrazione comunale ha anche predisposto un piano di rilancio, a che punto siamo? Il piano di rilancio chiaramente è subordinato alla partecipazione del gruppo Radici Nuoto che la sta gestendo alla grande. È proseguito questo rapporto con il gruppo, sono cambiati gli amministratori, il presidente è il Maurizio Cossali e vedo veramente anche un grosso impegno da parte loro per quello che riguarda anche il volontariato, quindi stanno limitando le spese anche del personale, stanno vedendo un momentino come ottimizzare tutte quelle che sono le risorse che hanno a disposizione. Noi abbiamo provveduto per quello che riguarda a un risparmio dell'impianto sotto il profilo energetico sostituendo una caldaia ormai obsoleta che aveva più di 40 anni. Interventi all'orizzonte? Interventi all'orizzonte noi abbiamo avuto adesso la fortuna di un contributo che un privato mi ha dato al gruppo Radici Nuoto, questo contributo andrà in primis a sistemare la vasca piccola con la sostituzione dell'impianto e di tutte le pompe che la alimentano. Come abbiamo detto la piscina è affidata alla Radici Nuoto, come avete organizzato la gestione? La gestione abbiamo fatto una scommessa fra tutti noi, abbiamo voluto coinvolgere tutte le famiglie, quindi da settembre c'è un nuovo consiglio direttivo che voleva gestire la piscina come gruppo, quindi abbiamo contattato tutte le varie famiglie per prendere questo incarico di gestione che era molto complesso. Tutte le famiglie sono state d'accordo, quindi noi abbiamo proseguito la gestione in accordo con il comune, per questo lo ringraziamo e abbiamo puntato tanto proprio sul lavoro delle famiglie, infatti devono ringraziare in modo particolare le mamme che hanno in cura e sono le responsabili della pulizia, abbiamo i genitori che fanno volontariato, ci aiutano proprio nella gestione quotidiana di manutenzione dei piccoli problemi che può nascere nella piscina. La Radici Nuoto è anche una squadra, come sta andando quest'anno l'attività agonistica? Quest'anno dal nostro punto di vista la squadra sta andando più delle aspettative che ci avevamo fissati perché la squadra sta svolgendo un ottimo lavoro, sono quadrati da uno staff tecnico di allenatori molto preparato, grazie a loro stanno allenando bene gli atleti e il nostro gol è che sono tutti degli S-atleti. La soddisfazione principale che questa squadra, oltre ai risultati di trofeo, ha raccolto, infatti siamo riusciti a vincere il trofeo di Senago, siamo arrivati terzi al trofeo di Albenga, siamo riusciti a qualificare anche 14 ragazzi ai campionati regionali e l'ultima soddisfazione sono che 8 di questi ragazzi partecipano ai campionati italiani di categoria che si svolgono a regione in questo fine settimana. La ciliegina sulla torta la possiamo avere ad aprile quando anche 4 dei nostri atleti possono partecipare ai campionati assoluti italiani. Queste sono grosse soddisfazioni che ci danno l'orgoglio per proseguire nel nostro lavoro, però non guardiamo solo a questi atleti ma cerchiamo anche di far crescere la squadra partendo dai piccolini. Infatti da quest'anno abbiamo voluto anche allargare per dare possibilità anche ai vari ragazzi che non vogliono fare agonismo, abbiamo creato un settore di pre-agonismo dando la possibilità ai ragazzi che si vogliono allenare solo due volte alla settimana di poter essere nella squadra.